Quando il medico di medicina generale si impegna nella capacità informativa rispetto a qualunque tipo di prestazione sanitaria, alla fine il paziente chiede, dottore lei che cosa farebbe? Perché? Perché sostanzialmente è forte un ragionamento di fiducia che determina in questo caso una sorta di delega del cittadino che chiaramente su molti argomenti non ha una competenza tale da poter giudicare approfonditamente e che quindi ha bisogno di qualcuno che lo accompagni sul piano professionale, quindi un soggetto competente, un medico che in qualche modo ha costruito con lui nel tempo, con la sua famiglia, col suo territorio, un rapporto di fiducia. Questo ruolo della medicina di famiglia è fondamentale, è fondamentale sia per arrivare rapidamente alla pratica vaccinale, nel senso che il medico di famiglia fa le vaccinazioni, le vaccinazioni antinfluenzali in molte regioni d'Italia, la maggior parte delle vaccinazioni vengono svolte dalla medicina di famiglia e se si è raggiunto qualche risultato maggiore è proprio perché è stata coinvolta la medicina di famiglia. Quindi ha due ruoli, ha la capacità sostanzialmente di praticare la vaccinazione a fronte di un impegno comunicativo e di presa in carico del paziente che però deve superare a mio avviso l'attuale contenuto contrattuale. Il contenuto contrattuale attuale dà al medico di famiglia una responsabilità rispetto all'iniezione, cioè il medico di famiglia è pagato, sembrerebbe, sulla base di questa prestazione che viene considerata una prestazione aggiuntiva a quello che è il dato contrattuale, semplicemente per la puntura. non credo che questo sia un messaggio motivante anche per una categoria professionale, innanzitutto per una categoria professionale come quella medica. Il medico deve prendere in carico il cittadino, deve prendere in carico il cittadino sul piano vaccinale, quindi per tutti gli aspetti delle vaccinazioni che possono investire quel cittadino per le sue fragilità legate a patologie croniche o per la sua età, visto che dopo i 65 anni alcuni vaccini sono indicati per la fragilità legata all'età. Per fare questo deve prendere in carico anche il dissenso, quindi non deve prendere in carico solo il cittadino che dà il consenso come sembrerebbe oggi alla vaccinazione, deve chiarire e raccogliere dati su perché quel cittadino non si vaccina, perché quello potrebbe servire anche a lui per comprendere su quali sono gli ambiti su cui documentarsi meglio per arrivare a raggiungere obiettivi maggiori.